Il piano del riordino complessivo relativo alla sanità molisana entra nel vivo dell'azione e in un primo atto cangella concretamente una delle unità operative complesse del presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso, quella di neurochirurgia, che da domani, giorno di San Valentino, di fatto è totalmente smantellata. Dall'ASREM giunge la spiegazione di un'azione già inserita nel percorso di riorganizzazione complessiva e nel documento aziendale che tra l'altro già prevedono la soppressione dell'unità di geriatria. Neurochirurgia, sottolineano i dirigenti dell'azienda sanitaria molisana, non è prevista dal decreto Balduzzi, quello che pone l'ostacolo dei 600.000 abitanti a dividere i territori che possono o non possono avere a disposizione alcuni presidi sanitari a tutela della salute dei residenti. Così da domani, come dichiara il direttore sanitario del Cardarelli di Marzio, i pazienti saranno dimessi e lasciati ad annunciate ma non limpide direttive ad una eventuale organizzazione di rete con il 118 e forse ad altre strutture che si trovano a distanza adeguata alle buone cure. In effetti ancora sembra tutto ambiguo ed aleatorio, nonostante si affermi che sono stati studiati scientificamente percorsi ed azioni concrete di tutela. Intanto giungono nelle redazioni numerose obiezioni e ragionamenti critici. Così, mentre il consigliere regionale Petraroia considera un errore chiudere il reparto da cittadinanza attiva, si sottolinea come da domani tutto il personale sanitario ed in particolare quello dell'emergenza urgenza sappia con precisione le nuove modalità di intervento sui pazienti, le strutture di riferimento per il trasporto in emergenza e le modalità di attivazione del servizio di elisoccorso.